Siamo qui con Alessandro Maselli della Pescara Colli, salve! Salve, buonasera a tutti, un volto poco conosciuto di questo programma! Cosa ci dice per la partita di stasera? Qualche impressione a caldo? Allora, la partita di stasera io sono tornato a giocare dopo due anni, quindi dal 19 marzo del 2016 che non giocavo e tornare in campo è una sensazione indescrivibile, quindi dico e invito tutti i giocatori del mondo Wisp a pensare a giocare e divertirsi perché è la cosa più bella che ci possa essere mettendo da parte le polemiche che comunque sono fisiologiche, però l'importante è farlo sempre in buona fede, sempre cercando di non distruggere questo bel giocattolo che faticosamente costruiamo anche grazie all'impegno di collaboratori come Francesco. Detto questo, la partita abbiamo incontrato l'Atletico Villanova, squadra coriacea, tosta, ben organizzata, mi ha fatto un'ottima impressione quindi complimenti al mister Polizzi. Io ho giocato dall'inizio e non me l'aspettavo, devo essere sincero, ci speravo, ma non me l'aspettavo è arrivata una buona prestazione, sono uscito a quasi dieci minuti dalla fine senza farmi male, quindi già questa è la grande notizia se abbiamo 21 a 0, meglio di così penso che un po' poteva andare. Insomma, tre punti importanti anche questa sera. Tre punti importantissimi, ovviamente Pescaraqualli non vuole fermarsi qui. Ok, allora la ringraziamo per questo bell'intervento e in bocca al lupo per il proseguimento. Grazie a voi.